In Viterbese Grosseto, nel lontano 1976, ebbe un'invasione di campo e uscì vestito da poliziotto in una camionetta della polizia. In 50 anni di attività nell'Associazione Italiana Arbitri ne ha viste tante, dai campi polverosi dei tornei giovanili alla Serie B. Oggi Antonio Prato, avvocato nuvolese con un passato anche da commissario e dirigente, è componente della Commissione Esperti Legali dell'AIA, costituita da quattro magistrati e altrettanti arbitri. A lui il Panathlon Club Lecce ha consegnato il premio Fair Play 2013 alla carriera nello sport. Sinceramente è giunto inaspettato e quindi a maggior ragione è particolarmente gradito. Il premio per la promozione dello sport è andato invece a Don Damiano Madaro, sacerdote originario di Monteroni, che per 20 anni è stato il tutor dei giovanissimi calciatori del Lecce. Quale consiglio si sente di dare a tanti giovani che si apprestano a intraprendere l'attività sportiva? Dare il massimo sempre e nella vita come nello sport.